Upas, spoiler al 1602, Luca affranto per la malattia, Marina non si arrende con Tommy. Gli spoiler di Un posto al sole dal 12 al 16 febbraio 2024 rivelano che Luca si sente sempre più in ansia a causa della malattia di cui soffre. Che gli sta causando vuoti di memoria ed è diventato chiaro che ciò interferiva con il suo lavoro. Nel frattempo Marina non rinuncerà a Tommy e si convincerà di essere pronta a crescere il bambino come se fosse la sua vera madre. Intanto Filippo e Serena progettano di organizzare una festa di carnevale per la giovane Irene, ma sorge un altro problema. Luke sta diventando sempre più inconsolabile per la sua malattia. Ornella continuerà a preoccuparsi per la salute di Luca dopo che i medici dicono che ha subito un'improvvisa perdita di memoria. I medici si renderebbero conto che non poteva trattarsi solo di stanchezza, non sapendo che De Santis aveva il morbo di Alzheimer. Luca cercherà conforto in Giulia mentre affronta situazioni sempre più delicate, ma questa malattia influenzerà anche il suo lavoro in ospedale. Ad un certo punto il medico, turbato dalla sua assenza ingiustificata, si metterà a perseguitare Rossella, dimenticando ciò che ha fatto. Luca finge di ricordare, ma quando torna a casa crolla disperato e piange. Partecipa a un corso di salvataggio d'emergenza. Marina non si arrenderà con il piccolo Tommy, a Place in the Sun in anteprima dal 12 al 16 febbraio inoltre. L'anteprima dei nuovi episodi della telenovela, che andranno in onda dal 12 al 16 febbraio 2024. Rivela che Serena e Filippo organizzeranno una festa di carnevale per la figlia. Tuttavia, nonostante i lieti eventi, accade qualcosa che rende nuovamente instabile la piccola Irene. Nel frattempo Marina si dice che vuole crescere Tommy in ogni modo come se fosse suo figlio. E il fatto che il bambino abbia già una madre ed è pronto a tutto per stare con lui è completamente ignorato. Dietro a tutto questo c'è Aida, che ha iniziato una relazione seria con Diego. Puoi stare con lui. Aida stava cercando di tenere Diego fuori dalla sua vita. Fino a quel momento la mamma del piccolo Tommaso aveva cercato di non esprimere troppo i suoi sentimenti per Diego. Anche se negli ultimi mesi erano nati sentimenti particolari. Sebbene Aida si tenesse sempre a distanza da Raffaele e cercasse di evitare qualsiasi interferenza, il figlio di Raffaele dimostrò di tenere davvero a lei. In un episodio precedente, ha anche viaggiato in Polonia con suo padre per salvarla dalla violenza. Le parole che la sua famiglia le ha imposto. La loro relazione sta attualmente mettendo radici ed è troppo presto per dire quale sarà il risultato.